Voi direte ma che ci fanno questi cuscini così? Ho creato una barriera così Flora può mangiarsi la sua pappa buona e questi monellini non vanno e gliela rubano perché hanno la loro pappa. Secondo voi Taki che cosa fa mentre tutti giocano? E da chi magna? Fiorella, Tina sei una pettegola, una pettegola, ho messo là qualcosa che lo devo buttare, dovete andare lì voi, vero? Guardate la barriera, perché Tina in ogni modo voleva andare, vero? Dov'è l'altro rossino? Aspettami, manco il rossino, non è che è passato di qua, eccolo là, eccolo là, perché sono tremendissimi i doro. E Fiorella, Fiorella, ormai ti sei fatta gatta tu, gatta tutta e lui qua deve tornare, scusate, ma io avevo lasciato questo coso, ho detto, lo nascondo così e io ho messo dentro un po' di spazzatura, ma niente, lo devo sollevare, mettere sulla gabbia, sennò lo devono toccare. Fiorella, stai meglio? Eh? Stai meglio, Fiorella, vero? Brava. Guarda, guarda, guarda come gioca con filo, con filo, eccovi, ecco, zitto, zitto, stanno andando a rubargli la pappa. La fate mangiare un minutino a mammina? Eh? Un minutino a mammina deve mangiare. Lei ci impiega subito, 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 intanto fatevi ancora cacchine, perché ne fate poche, infatti. fate un altro pochino. Guarda, 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 guarda che scatenati, che scatenati. Guarda, 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 ora, 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 ora in combattimento. Gleddo l'auto in concentrazione, guardate la faccia con, perché ti mangi la sabbia? Cioè, ma sempre a mangiare pensi, tachi, eh? Non mangiare la sabbia. Guarda, 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 l'attacco, 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 eccoli, 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 eccoli i topini. Vediamo, vediamo come l'hai fatta, che bella! Non la toccare però, che ora la butto io insieme alle altre cose, dai. No, no, non la devi toccare tu, ecco qui, non c'è più, non c'è più. Ecco qua, eccoli qua, eccoli qua, tutti scatenati, tutti scatenati. C'è, 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 c'è questo filo, ora lo caccio. C'è, 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 tu gli fai, gli ruba la pappa, no, deve mangiare in santa pace questa mammina. Guarda tu, deve mangiare in santa pace, o no? O non può mangiare in santa pace. Questa è il giovanella, è la rettiera. Quindi gli interessi qua dentro sono, andare in quella stanzetta, che la cosa gli interessa di più. Rubare la pappa alla mammina. Vediamo come gli edà di santa ragione. Ce la fai a scendere? Secondo me no. Secondo me tu hai difficoltà, Carlo. Vieni, 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 ecco qua, sei arrivata giù. Quando non ci sono io, come fate? Giocate, giocate e divertite. Guarda, 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 è sempre la istuna, quel filo. Non lo possono vedere, ora tanto devo legarlo alla gabbia. Già, mu, mu, hai mangiato Flora, è finito. Posso togliere la barriera? Flora, guarda, 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 guarda. Che monelli, un'altra cacchina, un'altra cacchina. Eh, a te non mi piace come la fai Tori. Eh, intervengo subito, non ti preoccupare. Allora, guarda, 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 guarda